Siamo qua con Simone, una dura giornata oggi, a parte i risultati abbiamo perso, non si sa per quanto il nostro ricevitore titolare, anche Simone come vedete ha perso una bella volta. Insomma cosa dici Simone? Oggi abbiamo perso una partita decisa dall'arbitro, questa partita diventa una storia da raccontare, stasera loro hanno messo in campo il suo raccettore migliore, ha tirato una buona partita e noi non abbiamo sfruttato quello che ci era concesso. Sinceramente abbiamo avuto anche un po' di sfortuna, a parte il piano fissi con i giocatori che ci avevano fatto male in due o tre, abbiamo fatto anche delle belle battute, purtroppo sempre in bocca nelle difeste del Brescia, però dai il baseball è così, siamo pronti per dimenticare questa giornata e niente, concentrarci nelle prossime partite contro il Cervignano. Nel baseball è così, si vince, si perde, quando si perde si bevono delle birre e si dimentica, si mette tutto dietro le spalle e si ricomincia sempre. A volte vieni, 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 a volte vieni. A volte vieni, piave forte.